E peraltro è un governo al quale noi abbiamo votato contro la fiducia. Cosa è cambiato? Che in un pomeriggio sono usciti un gruppo di senatori che sulle riforme non votano un emendamento e noi corriamo a spiegare che arrivano i nostri? Ci sono dei film, io sono una passione di film western, nel momento di maggiore difficoltà dei cowboy o dei soldati dell'esercito americano si sente la tromba e arriva la cavalleria. Ecco io penso che la cavalleria noi non possiamo farla, molto semplicemente, perché sarebbe sinceramente un clamoroso autogol.